E' Sio True Silver, Sio True Silver, coming for you! Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più! Dai tuffati anche tu, nel mondo di Sion! Allora, come sto? Sembri uno dei cattivi, perfetto sotto copertura! Quindi Makarov è il premio? Makarov non è un premio, è un pazzo assassino, una puttana pronta a darsi a chi offre di più! Ricorda la tua nuova identità, ti salverà la vita! Sei nella 141, il gruppo dei migliori guerrieri del pianeta! E' un onore, signore, quando conoscerò la squadra? Sono in missione, stanno recuperando un modulo ACS caduto oltre le linee nemiche! Sono a mollo? Direi surgelati, in questo momento! Ok ragazzi, salve a tutti e bentornati su Call of Duty Modern Warfare 2! Come vedete siamo in missione, eccoci qua, piano piano, allora visto che il gioco non ci permette tra una missione e l'altra di mettere in pausa, non era più da più sta cosa! Aspetta che fatta! Ecco, aspettiamo che il nostro capitano incominci ad arrampicarsi e poi dovremmo arrampicarci noi! Ok, il ghiaccio tiene, seguimi! Perfetto ragazzi, siccome vi stavo dicendo, siccome il gioco non ci permette di mettere in pausa tra una missione e l'altra, ecco qua, piccozza di destra, non mollate e usate la piccozza di sinistra! Ora, non mollate, è tutto sincronia, eh! Vi invito immediatamente a lasciare like e iscrivervi al canale, ragazzi, ve lo chiedo prima del video, di solito ve lo chiedo sempre alla fine, ma in questo caso ve lo chiedo ora perché il gioco non ci permette di mettere in pausa alla fine, quindi vi taglierò direttamente il video alla fine come faccio nell'altro video, ecco qua, il nostro ammazzo è il nostro... Dobbiamo recuperare il modulo ACS, quindi ragazzi, ve lo chiedo subito e intanto godiamoci la missione, ai limiti delle possibilità umane. Allora, dobbiamo correre e fare un salto... Grande capitano! Ecco qua, siamo arrivati... Allora... Ruz, controlla il sensore del battito cardiaco. Dovreste riuscire a vedermi. Io sono il punto blu. Qualsiasi contatto non riconosciuto apparirà come un punto bianco. Quindi da ammazzare, qualsiasi contatto... Ruz, questi idioti non sanno che siamo qua, facciamo un lavoro pulito e con calma. Pensa a quello sulla sinistra. Altre, uno, due, tre. Che devo fare tutto io? Io gli avevo sparato! È che in testa, è che però era ancora vivo, che ci possiamo fare? Scusa capitano! Scusami! Fai attenzione quando raccogli le armi dei nemici, Roche. Usare armi senza silenziatore attira l'attenzione. Ma infatti io l'ho tirata fuori per quando ci scopriranno, l'altra arma. Stavolta mi metto di qua, capitano McTravish. Così almeno. Pensa a quello sulla sinistra. Altre, uno, due, tre. Bel lavoro! Eh, hai visto che stavolta è andata bene, eh? Ok, ragazzi, continuiamo. Quindi, be- bella proprio come missione di infiltrazione. Veramente, veramente bella questa missione. Poi, è proprio da paura come va avanti, se me la ricordo un pochino. Adesso è un gioco di undici anni fa, è Modern Warfare 2. Abbiamo già ammazzato di- La tempesta sta montando. Vi vediamoci. Io terrò d'occhio la situazione con il mirino termico da questo ciglio. Sfrutta la tempesta per entrare nella base. Ah, io faccio il lavoro a sport. Io non ho un fantasma in questa tormenta. Le guardie non ti vedranno finché non sarai molto vicino. Mi tieni d'occhio il tuo rilevatore di battito cardiaco. Abbiamo una molto vicino di qua. Visto capitano? Poi gli atti ne abbiamo, eh. Ok, andiamo a cercare Cironi, ragazzi. E' mio. Grande Roche! Fantastico. Ok, così ti passiamo qua dentro. Ok, ho le loro comunicazioni. Vai a sud-est e piazza il C4 nella stazione di rifornimento. Se le cose si mettono male, passiamo al piano B. Sì. Ciao, ciao! Ciaone proprio! Damio nell'arrivo, non farti vedere. Non farti vedere, ne hai allettato uno. Occhio, il camion si è fermato. Quattro Tango sono appena scesi e si guardano intorno. Sei stato individuando, nasconditi. Tango alla tua sinistra. Tango alla tua sinistra. Dietro di te. Allora ragazzi non è indatti soltanto. Tango alla tua destra. Tango alla tua sinistra. Tango alla tua sinistra. sono morti e vabbè sono cose che capitano morto qualcuno dai però ci siamo liberati tutti dai non esattamente furtivo lo so anch'io cose che capitano su ecco qua facciamo la base aerea e non ci stiamo andando all'angolo nord est capitano ecco gli aree avete visti sono in quella zona lì a ventina di soldati la stazione di rifornimento ci sono ci sono dammi tempo ci sei sto rilevando altre informazioni sul satellite aspetta ok che fortuna l'hangar più lontano sono in due evitiamoli rilevo una grossa traccia di calore vicino alla torre forse bmp evita quella zona allora ragazzi si muore se si va di quindi dobbiamo evitare quei due lì mi sentiamo addirittura parlare tanto sono vicino non esattamente furtivo ragazzi vi ricordo ma facciamo quello che possiamo facciamo quello che sto cercando di fare capitano si può entrare di qua si stavo sparando eh scusa capitano un po' di trucco andiamo bravo capitano l'avrei ammazzato io eh però tu hai voluto fare il gradasso ecco qua il modulo va al piano di sopra cerca il modulo ACS ok si l'ho trovato la miseria la mia copertura è stata compromessa non farti scoprire e non sparare maggiore Petrov uscite con le mani in alto avete cinque secondi Ros diamo il via al piano B quattro tre due ok allora qua ci sparano e non riusciamo a capire da che parte ci sparano andiamo andiamo capitano tutto bene ok Ok, ok Capitano, cosa facciamo? Anche Edge ha ragione, capitano Fantastico Stanno benissimo, ragazzi Ci si provano a ralentare, capitano Boh, sotto Come di esalta La voce di McTree Comunque in questo pezzo Vai, 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 vai Per il pezzo difficile doveva essere Ok, tutto accelerato, ragazzi Massimo Eccolo di corte, lo andiamo Bravo 6, mi vediamo Puoi che vengono a salire a volto Siamo quasi amico Ok, allora si resta Fuori di qui Ok, allora Grazie 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 Grazie